Allora, ciao amici, è finita adesso, per fortuna è finita la partita. La Lazio che vince e stravince per 5-1 contro la mia Samp, quindi c'è poco da dire. Solo ovviamente un tifoso come me poteva sperare, magari anche solo in un pareggio, ma veramente questa Lazio è proprio troppo per noi, quindi anche il risultato lo dimostra. E' la partita in se stesso, perché alla fine comunque non c'è stata partita in nessun senso, cioè non c'è mai stato un accenno di reazione della Samp. Dal primo fino al novantesimo la Lazio ha dominato in lungo e in largo in ogni zona del campo e quindi vince per 5-1 strameritatamente. Allora, la partita è proprio stato sbagliato l'approccio di questa partita, perché comunque eravamo un po' troppo molli. Ci sono tantissimi meriti della Lazio, ma ci sono anche tanti tanti demeriti nostri per questo risultato così passivo, perché comunque non abbiamo avuto un minimo di spirito di reazione. Arriviamo sempre a secondi sul pallone e vedi il primo gol della Lazio, Collei è stato un suo errore madornale, credeva che arrivava Odeo, invece Caicedo, tutti i giocatori della Lazio hanno uno spirito combattivo e uno spirito vincente che alla fine loro lottano su ogni pallone, su ogni pallone. Poi oggi veramente, oltre a questo, c'è Lazzari, veramente su quella fascia ha dato filo da torcere e non poco, Immobile è un grande giocatore. Caicedo a noi ci segna sempre e anche oggi è ci è riuscito, ha sbloccato lui il risultato. E niente, quindi anche il povero Odeo oggi non ha colpe assolutamente, Odeo proprio non ha colpe. I due rigori della Lazio li stava quasi per intuire soprattutto il secondo, no, soprattutto il primo. Il secondo ha intuito anche di nuovo, ma Immobile l'ha tirato benissimo, benissimo. E quindi, Odeo è esonerato da ogni colpa. Cosa devo aggiungere ancora di questa partita? Onestamente ben poco, ben poco. Non sono queste le partite che dobbiamo fare punti. Si sapeva che era una partita difficile, così è stato. Ed è una partita dove non puoi salvare niente, è una partita totalmente da dimenticare. Ripeto, la Lazio è nettamente superiore a noi, quindi non ripartiamo da questa sconfitta, ma l'annulliamo completamente per ripartire quella dopo. E con quella dopo sicuramente è lì che dobbiamo cercare di far punti. Partita certamente difficilissima, ma più alla nostra portata. Perché la prossima, appunto, saremo contro il Sassuolo. E quindi possiamo sperare di cercare di fare risultato. Chi salvo di oggi della Samp? Ma direi Linetti, perché alla fine Linetti ci mette... Oggi è messo anche la firma nuovamente sul gol. Quindi 5-1. Il gol della Samp l'ho assegnato lui. Però ha uno spirito combattivo. Onestamente oggi neanche Torsby era così combattivo come al solito. E gli altri, onestamente... Difesa disastrosa. Chabot-Colley oggi proprio disastrosi. Avevano degli avversari difficili, si è visto. E non hanno retto botte. Quindi il risultato è stato questo. La prossima, appunto, la prossima è una partita da non sbagliare. Da non prendere sotto gamba. E soprattutto da far punti. Bisogna fare punti. Cosa c'è di positivo? Anche che Bonazzoli rivede il campo. Che in realtà il vero sostituto di Quagliarella è Bonazzoli. E quindi speriamo possa ritrovare anche la forma migliore che aveva prima dell'infortunio. Detto questo, archiviamo completamente questa partita. Archiviamola subitissimo. Testa già al sassuolo dove bisogna far punti. Detto questo, fatemi sapere voi nei commenti che cosa ne pensate. Quindi commentate, condividete, iscrivetevi al canale. E sempre forza sempre. Sempre e comunque. Ciao a tutti.